Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Gio dei ProGamerRoss e oggi siamo tornati su Resident Evil Ragazzi, dopo l'ultima volta i casini che ho combinato, ma ce l'ho fatta Sono riuscito a recuperare un paio di erbe mediche per, diciamo, per ristabilire la mia salute Ma dobbiamo tornare indietro Vi giuro, ho fatto talmente tanti di quei casini che non vi sto a dire Grazie a Dio ho salvato pure la partita Ma dobbiamo andare a usare la scheda di arcienso dell'ombrella Questa qui Questa qui sotto Per aprire la porta del laboratorio Non dovrebbe, ripeto, uscire al più Non vi dico che battaglia No, qua serve il disco, ma Poi dobbiamo venire dopo Non l'ho vista prima, meglio così Madonna, siamo pieni proprio Avrei dovuto lasciarmi lanci fiamme Tanto l'abbiamo consumato Ok No Ecco, qua ci sarebbe stato molto utile il lanci fiamme purtroppo Purtroppo non possiamo usarlo Siamo nella merda Siamo in pericolo Qua speriamo solo che non ci siano vaffanculo mostri Come ha fatto non prendi Mi giuro non so E' morto? Sì Certo ve l'ho dovuto usare di colpi Ragazzi taglio Scusate sbagliato Taglio E ci vediamo dopo Quando ho ammazzato tutti sti stronzi Allora ragazzi Dopo un po' di tentativo mi sono ritrovato in questa stanza Questa parte che Minchia Ok zombie Continuo così Finirò I colpi Del lavagnum Siamo ridotti No Nella merda Qui dopo Ed Ada se n'è andata E mo ragazzi Non mi ricordo manco più dove devo andare Non mi ricordo più ragazzi Non mi ricordo più niente Forse è qua dovevo venire Forse Anzi no Facciamo così ragazzi Taglio Vedo di ritrovarmi nel punto Dove Ci siamo Dove poi dovrò andare Ragazzi Non vi ricordo che ho girato Ma alla fine ho trovato la stanza E ovvio Ma vaffanculo Cioè Non mi ricordo Voi vi rendete il conto Che botta di culo assurda abbiamo Buah Re brutto figlio di puttana Ma cosa che luccica Grande colpi della magnum Li stavo per finire meglio Qua ragazzi Stiamo con pochissimi colpi Per la magnum Quindi Evitiamo di usarla ancora Quindi se non ricordo male Dovevi trovare il disco MO Sempre se non mi ricordo male Ragazzi Perché mercare tra tutto È possibile Non è che mi posso ricordare tutte le cose a memoria Inoltre Qua vicino Dovrebbe esserci Un interruttore Ecco Ecco Grande Ora ragazzi So io dove dobbiamo andare a usare questo So che forse questo video verrà un po' più corto degli altri Ma Ecco 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 Questa è un po' più corto di spi che stai lavorando con la prima C'è un po' più corto di spi 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 E si è tornato alla sua Per ottenere informazioni Ombrella Non è un po' più corto di spi Questo non è Non lo so Lo so Ada non farà qualcosa di così Se non vuoi lo crederà Io non mi preoccupo Se stai a morire Inoltre Ma Ho Sì Qua dovremmo morire Però Boh viene stordita Ecco Colpo in testa Ma dormi meglio Dormi Sì grande il virus G Oddio Ragazzi siamo quasi alla fine Preparatevi Siamo quasi alla fine Quasi alla fine del gioco Dobbiamo andare di qua Dobbiamo andare inserire il disco M.O No no Era l'area ovest Dobbiamo sbrigarci ragazzi Qua salto tutto Ragazzi se vi finisco Resident Evil 2 Giuro Vi porto qualsiasi serie Se ve lo finisco Eccola Grazie a tutti Annette era certo. C'era tutto. Se è che ho detto che ti senti a lasciare senza me, ma tu non ascolti... ... 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 Ada! Ada! Io ti ho capito! Non ti dimenticare! G... G5... Leon... è... over... just... let me go Shut up! Voglio farlo! E quindi... è troppo tardi Leon... Pensa di morire, ma... Ma lei incontreremo, ad esempio... No! Mi prometto che ti avresti avvicinare! Tu solo hai bisogno di aiutarmi qui! Tu... Io... Cioè... Dei giochi dove c'è lì, non c'è sempre Ada! Escapre... Tutto... Ehi... E... Io... Che dialoghi, ragazzi... Ehi... Ada! Ora capito perchè questo gioco, ragazzi, mi piace molto... Guarda, guarda, tutta questa grafica... Eh, però... E' sempre un bel gioco... Per colpa di questo sono morti tutti... Sino sono libera... Ok... Possiamo andare avanti... Inoltre, ragazzi... Nella scena... Ada, aveva solamente fatto finta perchè... Non voleva spararci... Perchè, praticamente, la pistola, in realtà, era scarica... Non vanno... Perchè... Via... Un fiume... Un fiume... Vapi... Ever... Un fiume... Sei... Pa... ecco di fuori qua è una sbagliata di distanza dobbiamo fare il disco al meone oddio spenditi ragazzi per poco ci provate vi dobbiamo combattere ragazzi ve la sto facendo vedere questa parte giusto per allungare un po' il video perchè sennò qua diventa davvero troppo corto preferisco stenderli senza ucciderli ragazzi una mia impressione è l'emulatore mostra la gallo un po' ma qua è pieno proprio che rischio ecco il co dai diciamo il disco mo ragazzi dovremmo avvicinarci allo scontro finale preparatevi 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 dovrebbe esserci lo scontro finale adesso oh si ragazzi siamo arrivati allo scontro finale oddio dobbiamo batterlo prima della fine del tempo ragazzi qua dovremmo usare tutte le armi a nostra disposizione dovremmo usare qua che dovevo fare mio dio non me lo ricordo se muoio qua la fine se muoio qua la fine forse qua devo ah si moppare quello preparatevi ragazzi io sono eccitato non ho mai combattuto contro sto mostro cioè ma ti rendete contro scappa Leon ragazzi ragazzi questa è una battaglia tostissima che cosa succede adesso ah si è vero si sta trasformando che me la ricordo questa battaglia perchè l'ho già vista ma non l'ho mai fatta che non ci sono mai arrivato che non ci sono mai arrivato e di giù è difficilissima dobbiamo usare tutte le armi a mia disposizione e intanto dovrò allontanarmi la scappiglia di puttana perchè nooo ci ha uccisi ragazzi no che casino mo che casino ragazzi taglio ci vediamo appena arrivo al punto di prima arrivo al... ok ragazzi ci sono di nuovo ho anche salvato la partita stavolta ho anche salvato la partita ho detto così almeno se moriremo potremmo ricominciare direttamente da qui mi accorto dentro il tempo sta battaglia devo farcela oddiooo guardarci che rimuovente ma sai oddiooo 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 devo usare assolutamente di farmi colpire vieni il vantaggio che abbiamo su di lui che è parecchio lento ma dovrei usare la magnum vieni semmo non c'è un mai abattato ah fanculo NOOOOO L'abbiamo sconfitto L'abbiamo sconfitto No vabbè questo è uno scherzo Cioè l'ho sconfitto Siamo ad un colpo di vita No vabbè dai ragazzi E' uno scherzo Dovremmo essere ormai alla fine Qua ci sono zombie mi sa Che se è il caso di ammazzarli subito Che non ci rimane molto tempo No no Non ci credo abbiamo finito Ragazzi E' uno scherzo questo Abbiamo finito Resident Evil Ormai questa è la scena finale Ecco l'antico scler Ce l'abbiamo fatta Are you okay? Yes, I'm fine No No I have to find my brother You're right This is just the beginning Goodbye Ragazzi Che devo dirvi Grazie per avermi accompagnato in questa serie E non è stata facile E' vero Ho avuto un po' di problemi a finirla Ma grazie al vostro aiuto L'ho completata L'ho completata Grazie per avermi seguito So che siamo stati in pochi a guardarla Ma me ne frego Ora dovrei riprendere la serie Spider-Man Dovrei riprendere E portare altre ancora di nuove Io vi ripeto Vi ringrazio per avervi seguito In questa nuova serie Giovedì prossimo uscirà un nuovo survival horror Voi devo decidere quale fare No Cazzi Aver finito Resident Evil 2 E' un grande traguardo Non ho finito l'uno Ma ho finito almeno il due In questo momento vi porterò anche il 3 Mi porterò E ragazzi Come sempre Se il video vi è piaciuto Mettetemi un mi piace Se non vi è piaciuto Mettetemi un mi piace Se non siete iscriviti al canale Condividete il video Come state E noi Ci rivediamo Alla prossima 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 Vi chiedo un grazie Vi chiedo un grazie Per avermi seguito In questa serie Vi chiedo proprio Un grazie speciale Tu? Non abbiamo mai salvato Perché ho sempre salvato Con l'emulatore Ragazzi Ragazzi Mi si è bloccato E' un emulatore E' un emulatore Ecco Vabbè ragazzi Tanto il gioco è finito Quindi non è un problema Io ripeto Mettete mi piace Mettete il non mi piace Condividete il video Iscrivetevi al canale Ci rivediamo Alla prossima Alla prossima